it's me ciao a tutti ragazzi sono raffa siamo tornati su planet fredd 2 allora ragazzi guardate intanto se clicco guardate per far vedere che gioco io se non ci crede adesso 2 allora guardate faccio così se vuoi la freccia fai vedere che gioco io perché già lo so che alcuni voi non ci credono mai che gioco su serio io in questa notte ci dovrebbe essere animatronics gli old e fatti eccoli ciao ita redbone eccolo ma quando sei brutto come posto o il dici che innamorarsi di te a gioco come fa come fai poi tu hai innamorati di te come cazzo ragazzo di jimmy box che scade cristo non c'è la musica a te sottofondo no no fa così flash 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 tsi al dito fa male dito ragazzi fa male dito aiuto voi di fox e fatene ti prego Ok, ok, ok Madonna, Foxy di oro Già una facca Una facca di energy ha fatto sprecare Ok Alcuni dei guandotti? Alcuni dei guandotti? Ok Ok, nessuno Credo Foxy, perro Madonna mia, mamma mia Che palle Ah, vattene Perro, perché con gli altri Foxy se ne va in un minuto Anzi, in un secondo E come invece ci mette quattro Mi stava cascando il tele Eh dai cazzo, vattene Foxy Vabbè, rompi le palle Ti odio Scott Cauto Perché proprio devo flashare Foxy E un po' tipo a FNAF World Che quando cerco Di mettere R-Rune Che non voglio fare una battaglia Vuol la stessa cosa Un po' i condotti Nessuno dei condotti Mai fidarti delle apparenze Delle apparenze, vabbè Puttana, tu rovi quando sei brutto Eh ciao, se ne sono andati tutti Foxy Mi ha rotto le palle Si è portato per la compagnia Dai cazzo, vattene Vattene, vattene Ragazzi, mi si sta distruggendo la flashlight Che cazzo Mi si è chiuso il gioco Ma stai scherzando Perché si è messo tutto quanto Tutto questo disordine Vabbè, allora Allora Mi segui? Perché cazzo mi si è chiuso il gioco Perché cazzo mi si è chiuso il gioco Allora, tu devi morire Tu pure Zettati Ok Qualcuno dei condotti Qualcuno dei condotti ha segnato un brutto rumore No 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 vitte Cannon No no cazzo, no cazzo, no cazzo No cazzo No cazzo No cazzo Dai cazzo Muovi che devo przestare Freshare Non flessare Flessare Foxy Dai cazzo Muomiti Vattene ti prego guarda quanto siete brutti aiuto madonna quanto siete brutti stavo scherzando stavo scherzando stavo scherzando ok 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 no aiuto ho preso un colpo old bonnie quando sei inquietante brazzi questo qui alcuni credono che che stavo dicendo alcuni credono questi qui siano gli animatronics dell'uno che io l'uno poi non l'ho giocato stavo dicendo che poi che questi brutto che questi erano quelli la prima di questi toy qui ed erano dopo fredbear e spring bonnie ragazzi sono old fox the red with the fox old fox old ok 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 dai cazzo dai cazzo dai cazzo caspita muori dai cazzo no old bonnie old bonnie no music box no music box ok 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 si andò si andò si andò ok maschera aiuto old bonnie old bonnie se ciao due la puttana quando sei brutto quindi se mo di questi due non vedo nessuno di questi due allora direi che che sono nell'ufficio la vendetta dei polli guarda qua quanto è brutta questa ragazzi purple freddy gesù da dove cazzo è uscito questo ragazzi shadow freddy avete visto shadow freddy si ce l'ho fatta ho avuto i prosti e regni chi è che brutta tu tu è tutta colpa tua secco di non perdere vieni qui è tutta colpa tua se come te lo faccio inghiar il tuo music box vieni qui ma che è brutta sento che cazzo è vieni qui che poi con gli occhi blu sembra tipo quello lì di i fai dei cani perché qui c'è del sangue ciao ho detto che non mi devi sparare in terra allora old bonnie devi morire capito ciao ragazzi ho superato la seconda notte pro tentativo come faccio a superare la terza notte pro tentativo sentite ragazzi provo l'ultima volta l'ultimo tentativo che poi su zero basta tu ci hai rotto il cazzo ciao ragazzi easter egg avete visto ho visto shadow purple freddy poi questa qui è with the red chica segnaletta è rotta e lo sapevo ok with the red chica ciao se non mi vieni a rompere le palle anche a te foxy with the red foxy with the red chica se non mi vieni a rompere le palle vi do un po' di pizza se muo foxy se ne vai gli do la pizza vedi com'è obiettente obiettente ragazzi vabbè obiettente obiettente ok vedi che lui vuole la pizza ragazzi è andato ok ragazzi sei quando sei brutta fuori ma mettiti qualcosa in bocca grazie aver visto purple freddy mi ha messo addosso una la cosa come si chiama la cosa a cui si fai quando poi la droga ecco l'emozione ho visto il primo star egg in questo gioco il secondo perché in realtà ho visto shadow bonnie non so se l'ho detto però vabbè lo ridico io prima ho fatto già una parte che lui come è difficile sta da razzanotte infatti ecco come è difficile e ho visto shadow ho visto shadow bonnie si ho visto shadow bonnie e mo ho visto shadow purple freddy per shadow freddy purple freddy la stessa cosa ok 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 Foxy sta qui stavo scherzando ok Foxy però ci ha rotto le palle ci ha rotto le palle pure sto misbox ha rotto le palle oh cazzo 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 no 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 vaffanculo è tanto ho perso ragazzi scommesso Foxy o Chica Chica poi su non mi è spaventato ma voi resti pronto perché dovrà andare a pranzare perché sono stanno studi proprio mentre non è ancora pranzato comunque vabbè e muoviti sto cazzo ciao Foxy ha rotto le palle basta vattene fai consumare la flashlight vorreste cugino ok ok siamo andato siamo andato siamo andato siamo andato siamo andato no c'è sempre un mongoloide quando faccio così guardate cioè è bello che sto sto tizio qui se il tablet se lo schiatta proprio in faccia come se non ci fossero domani tu Foxy ha rotto le palle cioè perché proprio devo flashare perché non posso mandarlo via con la maschera cioè se potessi mandarlo via qualsiasi persona stanno con la maschera anche puppet tutte tutte le notti proprio così però così le notti si sarebbe sarebbero fatte più più noiosi cioè tutto quanto già finito cioè subito si finirà per le notti e la prezzo dei giochi di scott sono questi che non si devono finire più facilmente se no che cazzo è che cazzo è il gioco e nessuno ci gioca se qua conosceva un gameplay lo finisce tutto quanto un episodio tu foxy però c'è è rotto le palle due di notte non ci posso corredere toglio bene due di notte io mi sposerò con le due di notte anzi no io mi sposerò con le sei di notte la troia porca troia ho l'ansia c'ho l'ansia c'ho l'ansia ragazzi 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 voglio la conoscenza questa cosa però adesso stai andando perché ho detto sta cosa c'è fox andato rompe le palle musicbox del cazzo c'è il maggior problema del gioco non è proprio usare la flashlight o la flashlight che si scarica il problema del gioco è il news box ok perchè non si sono ancora qui si sono calmati un po' tutti come l'ho detto danno c'è a foxy che non rompe le palle sta facendo che rompe le palle il bello che foxy comunque sembra un mio personaggio preferito i fnaf però no questo qui quello nell'uno però ragazzi allora vi prometto ve lo giuro che quando finisco fai niente il cane di candis fai de freddis 2 mi giuro anzi ve lo prometto faccio fai de freddis 1 c'è proprio un mongoloide a fare c'è a fare così sembra proprio un mongoloide ok dai con ste quattro rinotte ok devo concentrarmi sul gioco no sul video sul gioco devo concentrarmi sto bene continuo